Nuova udienza oggi in corte d'assise a Como per il processo che vede Franco Cerfoglio, pescatore 39enne di Domaso, accusato dell'omicidio di Alfredo Sandrini, quarantenne di Sorico. Hanno parlato oggi i testimoni citati dalla difesa, avvocato Pietro Bassi, tra i quali anche la mamma di Cerfoglio. Non conoscevo Sandrini, ha detto la donna. Sapevo che era un socio di mio figlio, non socio in affari, ma compagno di bevute al bar. Franco mi disse che l'aveva picchiato due o tre giorni prima di Natale, ma mi disse anche che aveva ragione Sandrini perché gli spettavano dei soldi che non gli aveva ancora dato. Mi disse poi di non preoccuparmi perché si sarebbe messo a posto. Prima di alzarsi dal banco dei testimoni, la donna ha concluso così. Franco non è un violento, non lo è mai stato. Dopo la testimonianza la donna ha accarezzato il figlio, chiuso in lacrime nella cella della corte d'assise. In aula oggi spazio anche al racconto dei soccorritori che hanno prestato le cure a Sandrini prima che morisse. Alfredo Sandrini, quarantenne di Sorico, venne freddato con tre colpi di carabina calibro 22 sparati alle spalle sulla pista ciclabile tra Domaso e Geralario la sera del 3 gennaio. Queste immagini mostrano proprio Sandrini pedalare pochi minuti prima dell'imboscata che, secondo l'accusa, gli sarebbe stata attesa da Cerfoglio per un debito di droga. Ma la difesa del pescatore tenterà di battere piste alternative. Sandrini doveva testimoniare a un processo per contrabbando di tabacchi, poi è emerso come avesse anche litigato con un uomo per una donna conosciuta in Unite. Infine c'era la questione di una pistola contesa e mai restituita sempre da Sandrini ad un soggetto chiamato Rana. Tutte persone che potrebbero aver avuto motivi di risentimento nei confronti della vittima, ora resta da capire come questi tasselli verranno utilizzati dalla difesa di Cerfoglio. Nel frattempo l'avvocato della parte civile Massimiliano Galli ha avanzato una richiesta di risarcimento danni in favore del fratello di Sandrini di 150 mila euro.